Ciao a tutti ragazzi, dunque questo video mi è stato richiesto tantissimo dagli studenti universitari, quindi ho deciso di farlo per loro. Comunque in generale può aiutare tutti. Voglio spiegare un pochino come funziona il pannello di comandi di una lavatrice e le differenze tra le varie tipologie di programmi e cosa lavare all'interno della lavatrice quando si seleziona un specifico programma. Dunque la lavatrice come ben sapete ha diverse fasi di lavaggio, la parte lavaggio, risciacquo e poi la parte di centrifuga finale. Eventualmente c'è anche una parte antipiega che è la fase finale per evitare che i capi si stropiccino troppo rimanendo fermi nel cesto in attesa di essere stesi o inseriti in asciugatrice. Ovviamente c'è il tasto di accensione. Noi adesso andiamo a vedere un po' i vari programmi. Allora, i programmi sono suddivisi in cotone, sintetici, lava indossa in questo caso nella mia lavatrice è il sintetico o i mix, la parte relativa ai delicati, la lana e i programmi speciali che sono programmi extra che ogni lavatrice ha studiato per un determinato tessuto o comunque appunto sono programmi extra che la vostra lavatrice potrebbe avere. Partiamo dal settore cotoni. Nel cotone possiamo selezionare solitamente fino alla temperatura massima che è 90-95 gradi in alcune lavatrici e lo utilizziamo per lavare i cotoni resistenti, quindi asciugamani, lenzuola, tovaglie, canovacci, accappatori, tutto quel tessuto spesso o comunque appunto resistente che può arrivare fino ad alte temperature. Io di solito consiglio col cotone 90 di lavare gli asciugamani bianchi, le lenzuola bianche o comunque i carichi di lavaggio molto molto sporchi. Stessa cosa col cotone 60, possiamo lavare anche lenzuola colorate, asciugamani colorati, tovaglie colorate con i 60 gradi e poi ci sono i programmi eco che sono economici barra ecologici che utilizzano una temperatura in realtà più bassa di 60 gradi o 40 gradi, circa 55 barra 35 in questo caso e servono per risparmiare acqua ed energia, sono programmi lunghi come vedete, 3 ore 29 perché sfruttano il fattore tempo piuttosto che il fattore temperatura quindi in questo caso se vogliamo usarli per risparmiare un pochino laviamo dei carichi poco sporchi che non hanno tante macchie 40 gradi, laviamo sempre lenzuola colorate, tessuti comunque sempre resistenti, copre i divani e 30 gradi capi che hanno bisogno di un lavaggio non troppo performante nel senso che non sono tanto sporchi ma hanno bisogno di una rinfrescata nel programma e nel settore cotone si può utilizzare senza problemi il detersivo in polvere poiché essendo abbastanza lunghi garantisce il fatto che si sciolga del tutto e non crei problemi la polvere in questo caso è anche più efficace dai 60 gradi in su perché garantisce anche un'azione igienizzante e sbiancante ma poi queste cose le trovate in altri video oppure su Instagram o TikTok passiamo ora al ciclo sintetico mix o lavandossa come nel mio caso è il ciclo che dovrete utilizzare di più per quanto riguarda la cura dei vostri capi di tutti i giorni le magliette, i pantaloncini, l'intimo quindi tutte le cose che vanno lavate in maniera efficace ma al contempo un pochino più delicata rispetto al ciclo cotone questo perché appunto il ciclo lavandossa ha un'azione meccanica che è quella che garantisce poi l'eliminazione delle macchie eccetera data dalla rotazione del cestello un po' più delicata rispetto al ciclo cotone quindi quando dovrete lavare appunto magliettine, pantaloncini, intimo eccetera utilizzate il ciclo sintetico mix o lavandossa la temperatura consigliata è 40-30 gradi 60 gradi da utilizzare solo per cotoni chiari in realtà che non vogliamo lavare troppo intensamente nel ciclo cotone e decidiamo di fare un ciclo un po' più delicato ora spostiamoci nella parte relativa ai delicati in questo settore laviamo felpe, maglioncini di cotone, le tende piuttosto che alcuni copridivani è un ciclo breve con una centrifuga anche più bassa e può arrivare fino a un massimo di 40 gradi in alcuni anche a 60 gradi può essere appunto utilizzato per anche le magliette con le paillette o con delle stampe ciclo lana il ciclo lana è molto corto sfrutta la questione dell'ammollo in acqua praticamente perché fa pochissime rotazioni e serve per lavare i maglioni in lana, in cashmere eccetera bisogna utilizzare un detersivo specifico per capi in lana questi altri programmi non sto a spiegarveli perché variano da lavatrice a lavatrice il programma in generale che potete trovare in alcune lavatrici è il programma per gli scuri che garantisce il mantenimento dei capi scuri io lo utilizzerei più appunto per i jeans o alcune felpe perché ha una temperatura di 40 gradi ed è un po' più delicato rispetto al programma sintetico andiamo in quest'altra zona quasi tutte le lavatrici oggi hanno un indicatore del tempo residuo e delle opzioni in questo caso noi possiamo scegliere varie opzioni nel mio caso io ho il breve, l'aggiunta del pre lavaggio, dell'ammollo eccetera eccetera selezionatore della centrifuga più la centrifuga è alta più i capi ci metteranno meno ad asciugare quindi si avrà meno acqua si può selezionare e diminuire o aumentare questo simbolo vuol dire che vogliamo che l'acqua rimanga nella lavatrice e poi selezioneremo noi un programma centrifuga per fare in modo che magari i capi non si stropiccino troppo questo invece proprio eliminiamo la centrifuga quindi per alcuni capi magari alcune tende sintetiche che vogliamo lasciare bagnate e asciugare poi fuori gocciolando in modo tale da tenere belle dritte ok questo era per quanto riguarda il pannello di comandi poi se ci sono dubbi ovviamente scrivetemi nei commenti questo invece è il cassetto dei detersivi quando dovete aggiungere il detersivo nel lavaggio principale quindi quando non fate il prelavaggio scegliete la vaschetta con il numero 2 o queste due lineette qua potrete aggiungere detersivo e additivo se vi state chiedendo cos'è l'additivo è qualcosa che aiuta il detersivo a lavorare meglio e a igienizzare io consiglio sempre la canneggina delicata ma appunto andate a vedere poi i miei video o seguitemi su instagram perché scoprirete il perché vi dico della canneggina delicata l'ammorbidente non va mai insieme al detersivo ma va nella vaschetta contraddistinta dal fiorellino perché entra in azione nell'ultima fase di risciacquo non deve andare insieme al detersivo ok spero che questo video si possa tornarvi utile per districarvi tra le varie lavatrici che ci saranno da fare qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti e seguite la casa di Mattia su instagram e ci vediamo nei prossimi video ciao